Ciao a tutti e buona giornata. Oggi vi presento il video più bello mai caricato sul mio canale. Perché più bello? Perché non l'ho fatto io. Cioè io so suonare ma fare i video sono un disastro. Lo sapete, io faccio in quadratura fissa e parto a suonare. Buonanotte. Il massimo che so fare è mettere le scritte in sovimpressione. Allora vi spiego cosa è successo qualche giorno fa uno straordinario pianista di Milano. Si chiama Tino Carugati, con il quale avevo già fatto una bellissima collaborazione. Mi scrive e mi dice Fabio mi piacerebbe suonare Nuovo Cinema Paradiso, una delle più belle colonne sonore della storia. E io dico Tino mandami il filmato e io studio la parte per il flauto. Lui ha composto tutte le immagini. Quindi da una parte ci sono io, vedrete con le note sovrimpressioni così potete suonare con me. Poi da una parte c'è lui che suona e sopra la tastiera con le sue mani che volano creando delle armonie meravigliose. Quindi Tino Carugati, iscrivetevi al suo canale se volete sentire tantissima musica meravigliosa. Grazie Tino, grazie di cuore per avermi fatto provare queste grandi emozioni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.